Parliamo di Mercoledì. Ho visto la serie in anteprima grazie a Netflix che mi ha dato la possibilità di recuperare gli otto episodi qualche giorno prima dell'uscita effettiva della serie sulla piattaforma e non vedevo l'ora di vederla, perché probabilmente Mercoledì era uno dei prodotti che attendevo di più quest'anno, anche dopo il trailer che ha lasciato un po' scontento qualcuno. L'attendevo fin dall'annuncio, non ricordo esattamente quando è stata annunciata, ma comunque se ne parla da un po' di questo progetto. E l'attendevo non solo perché comunque sono cresciuto con la famiglia Addams, non esattamente con la serie degli anni 60, anni 50, comunque non con la serie originale, ma con i due film intanto e con una serie iniziata negli anni 90, non ricordo adesso il titolo, forse la nuova famiglia Addams, proprio si chiamava così, che trasmettevano su un canale che guardavo da piccolo. Attendevo comunque la serie soprattutto perché dietro ci sta un certo nome. Questo nome è Tim Burton, che tra l'altro si trovava a Lucca, dove è stato presentato in anteprima il primo episodio della serie. Tim Burton è uno dei miei registi preferiti, lo apprezzo ancora nonostante qualche ultima caduta ed ero curioso di scoprire se appunto questa mercoledì si sarebbe aggiunta a queste cadute oppure ad un risollevamento qualitativo per Tim Burton. Ne parleremo in questo video. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a supportare il canale gratuitamente, basta lasciare un like, iscrivervi se vi trovate qui per la primissima volta e se non volete perdere gli altri video, attivate semplicemente la campanella. Vi ricordo inoltre che se apprezzate le recensioni fast, quindi delle piccolissime recensioni, compresa anche quella di mercoledì che ho già fatto, sia negli shorts qui su YouTube ma anche nei reel di Instagram e anche nei TikTok, pubblico appunto delle mini recensioni antipasto per alcune recensioni più lunghe come questa di mercoledì, ma anche mini recensioni di prodotti di cui non parlo effettivamente su YouTube. I link degli altri miei social sono in descrizione assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt, dove trovate questo design a tema alla famiglia Adams, bellissimo, tra t-shirt, poster, cover e tanto altro, con questo design e non solo. Vi ricordo che esiste il codice Il Pensiero 4 che vi dà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Un grazie in anticipo se deciderete di supportare il canale in questo modo. Ripeto, i link di Pampling ma anche degli altri social li trovate nella descrizione. Ma adesso parliamo di mercoledì. Ragazzi tranquilli, questa sarà una recensione senza spoiler, totalmente senza spoiler, anche perché la serie deve ancora uscire e sarebbe controproducente sia per me che per voi fare qualsivoglia spoiler nel video. Come ho già detto, attendevo tantissimo mercoledì, non vedevo l'ora di vederla, soprattutto per scoprire la qualità effettiva della serie e dopo averla vista posso dire che mi sento un po' combattuto. Perché in primis, sfortunatamente, la mano di Tim Burton non si sente, quasi per nulla. Se non fosse scritto nei crediti non penserei nemmeno a Tim Burton. Io davvero non capisco cosa stia succedendo al regista che ho adorato e che adoro tuttora. Sinceramente spero in qualche tipo di resurrezione per Tim Burton che speravo avvenisse con questa mercoledì. E così non è. Non del tutto, comunque adesso mi spiego. Ripeto, Tim Burton non si sente né nella regia, perché comunque ha diretto i primi tre episodi, se non sbaglio, solo i primi tre, ma nemmeno nella produzione, perché lui è produttore esecutivo e quindi essendo, ricoprendo questa figura, comunque si dovrebbe sentire all'interno di tutta la serie. E ripeto, così non è stato se non per qualche piccolo dettaglio, qualche qualcosina davvero di microscopica in confronto a tutta la durata della serie. Non sembra assolutamente che dietro ci sia Tim Burton. E questo è il primo grande problema. Il secondo qual è? E questa cosa mi fa davvero sorridere perché vi ho letteralmente detto a inizio video perché attendevo questa serie per Tim Burton e per la famiglia Adams e Tim Burton non si sente e la famiglia Adams non sembra la famiglia Adams. Soprattutto mercoledì che è appunto la protagonista, in realtà quasi solo mercoledì. Gli altri membri della famiglia, essendo secondari, non compaiono tantissimo nella serie e comunque sembrano gli stessi personaggi che sono sempre stati. Solo che magari un po' più accurati fumettisticamente. Quella che vediamo come protagonista non sembra mercoledì. In ogni caso Jenna Ortega, che è una giovane attrice comparsa negli ultimi periodi di più in Scream 5 e in Exa Sexy Horror Story, ha fatto comunque un buon lavoro per quel che si può affermare a mercoledì, ovvero una persona molto apatica. O meglio, visto il personaggio l'avrei voluta in questo modo per tutta la durata della serie, invece qualche volta sembra semplicemente una ragazza un po' stramba. Ok, non sono il fan numero uno della famiglia Adams o di Mercoledì Adams, però arrivo anch'io a capire che alcune cose il personaggio probabilmente non le avrebbe mai fatte. Sia ad inizio serie che a fine, comunque non posso parlarvi esattamente di quello che succede nella fine, ma nemmeno di quel che succede nello sviluppo, ve ne parlerò un po' genericamente. Ma ci sono delle cose che mi hanno fatto storcere molto il naso. Togliendo quindi questi due elementi che attendevo tantissimo di vedere, ovvero la famiglia Adams e Tim Burton, quello che risulta è semplicemente una serie teen mystery, che comunque ha il suo perché in qualche modo. Alcune cavolate ci sono, ma in generale, tra cliché e risoluzioni un po' troppo facili, è un po' la serie standard teen di Netflix. E non era esattamente questo che volevo da una serie su Mercoledì Adams diretta da Tim Burton, a cui Tim Burton ha lavorato, però cerco di farmela andare bene perché comunque mi ha intrattenuto. È una serie che intrattiene, è un po' come le ciliegie, quindi un episodio dopo l'altro, almeno per me è stato così, perché nonostante guardando la serie in modo attivo, quindi cercando anch'io di risolvere i misteri, sono arrivato alla conclusione, probabilmente già direttamente all'inizio. Per poi si cambia l'idea un po' verso lo sviluppo della serie, ma tornando poi al punto di partenza, quindi con l'idea principale che era quella giusta, nonostante avessi già svelato in qualche modo un po' il tutto, ero curioso di vedere come sarebbero arrivati al finale e come avrebbero presentato la rivelazione del mistero. E ripeto, tutto sommato, è una serie che ci sta, però se non fosse per alcuni personaggi o alcuni elementi grafici, non sembrerebbe una serie su Mercoledì. Ripeto, lei è l'unica che in realtà per caratterizzazione non sembra il personaggio che dovrebbe essere, poi gli altri comparendo anche per poco lo sembrano, si capisce che sono la famiglia Adams. Mi fa sorridere il fatto che abbiano voluto tenere in qualche modo segreto per un po' fino alla rivelazione il casting di Zio Fester, quindi tutti ad immaginarsi un grande attorone nel ruolo di Zio Fester, poi in realtà è un comico americano che in Italia non è nemmeno così tanto conosciuto, magari in America è stata una rivelazione così tanto stupefacente, per me no, per me no. Non ricordo nemmeno come si chiama in questo momento, però anche Netflix Italia nelle storie diceva questa notte verrà presentato Zio Fester, Zio Fester, e poi c'è sto tizio, vabbè comunque. Gli altri Adams, compresa mano, sono in character. Dalla serie non aspettatevi qualcosa di orrorifico, si concentra molto 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 di più sul teen drama, ma c'è anche qualcosa più di qualcosa di fantasy, e ogni tanto qualche piccola goccetta di horror è stata anche inserita. Ho apprezzato il fatto che nel cast abbiano inserito anche Christina Ricci, che è la mercoledì dei due film degli anni 90, ed è un personaggio un po' così interessante comunque, ma il fatto che sia interpretato da Christina Ricci rende il personaggio ancora più interessante, soprattutto protagonista di alcune battute che si possono tranquillamente fare tra i dialoghi tra mercoledì e questo personaggio che Christina Ricci interpreta. Tranquilli, non aspettatevi un mercoledì No Way Home con lei che si rivela essere la mercoledì dei film degli anni 90, quindi il multiverso esiste anche in questa serie, non è così, tranquilli. Ripeto, per quel che mi aspettavo e per quello che volevo da una serie del genere non sono rimasto contentissimo, vedendola sotto l'ottica di una semplice serie drama qualunque, teen drama qualunque appunto nulla di che, è comunque carino. Il finale è interessante, i colpi di scena ci sono, ce ne sono anche tanti durante il corso della serie, e quindi in generale vi consiglio di dare un'occhiata, però ripeto vi ho allertato un po' in qualche modo, non aspettatevi né la mano di Tim Burton, se siete fan del regista, e nemmeno Mercoledì Adams, perché sfortunatamente non ho sentito né uno né due. Il personaggio si contraddice in alcune azioni, viene contraddetto anche da alcuni personaggi che dicono tu non te ne frega niente, posso dirvelo tranquillamente senza contesto, non è spoiler, non frega niente di questa cosa a mercoledì e poi in realtà le frega. E ok, potrebbe aver mentito, ma questa non è mercoledì. È un altro personaggio un po' strano, con le trecce, che assomiglia vagamente a mercoledì. Un po' deluso dalla serie, non del tutto, perché comunque mi ha intrattenuto, ripeto vi consiglio di dare un'occhiata, se guardate questo video dopo il 23 novembre, quindi il giorno dell'uscita della serie su Netflix, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!